Un presepe che prende vita dinanzi ai nostri occhi, ultimi ritocchi prima della inaugurazione, siamo a Casa Micciola, per la precisione a Perrone, nella centralissima via Cumana e ci sono questi maestri che stanno eseguendo quest'opera d'arte, i fratelli D'Ambra, Franco Vito che viene da lontano, viene da Forio, però opera anche qui da noi. Che cosa stiamo realizzando? Buongiorno innanzitutto, è una raccolta di presepi sempre gli stessi, no, sempre gli stessi, i presepi normali, schitani, fatti appunto da amanti del presepe. È un presepe circolare dove si può appunto ammirare intorno, dovrebbe essere intorno ai 4 metri per 4, quindi un 16 metri lineare di presepe. Però insomma, prima di arrivare qua vediamo strada facendo, ci sono i carretti, altri quadretti, le natività, c'è un presepe in una bottiglia, nelle lanterne, in un vecchio televisore, niente di meno. Sì, infatti c'è da vedere e appunto invito a tutti quanti di venire a visitare, sempre per la vecchia tradizione che secondo me non bisogna assolutamente dimenticare, tralasciare ma farla rinvigorire ogni anno. Ogni anno sempre di più ma maggiormente per i ragazzi, e i ragazzi che stanno lasciando questa tradizione ma sarebbe opportuno che i genitori, noi genitori, li incitassimo a fare qualche cosa di più. D'altronde vediamo una signorina che sta dando una mano validissima, c'è anche due giovanotti che sono lì ad operare mentre noi andiamo avanti con gli ultimi ritocchi. Diciamo ai fratelli d'Ambra, Peppe, insomma vieni a dare da supporto a questo fratello artigiano? Appunto, vengo a dare solo il supporto perché io sto seduto e guardo e ragioniamo ogni tanto, ma tutta l'opera è sua, integralmente è sua. Quanto sei critico tu nel dettaglio, nel particolare? Nessuno perché ti devo dire la verità, ogni tanto gli dico Franco facciamo così, lui osserva, una volta mi manda a quel paese, un'altra volta dice hai ragione, e quindi abbiamo fatto questo, esce fuori questa qua. Poi abbiamo fatto un altro acquisto, Salvatore, che viene direttamente da Napoli, che è uno storico del presepe, che quest'anno ci ha molto aiutato insieme agli altri, insomma è l'associazione Max, non è un'associazione fatta da fratelli d'Ambra, è fatta soprattutto dai volontari che vengono, si innamorano dell'opera che sta facendo e si mettono a disposizione per renderla sempre più bella. E così sono usciti fuori i presepi a furio, poi sono stato chiamato dal sindaco di Casamicceva, che ci ha chiesto il piacere di se venivamo a fare qualcosa qua. Ci sono state un po' di contraddizioni con lui, però alla fine siamo riusciti a trovare non un accordo, a trovare una distemazione.